Buongiorno, oggi giornata ideale per presentare la mia giacca. Piove, fa freddo. Vi voglio presentare la mia giacca della Ellie Helson, la Crew Jacket, che sto usando da sicuramente due anni adesso. Adesso le temperature sono scese, piove e questa giacca qua la trovo eccezionale perché all'interno è foderata, le maniche sono foderate, mi tiene veramente idroripellente all'acqua, anche se piove così non ho nessun problema. Ho diverse tasche che sono tutte a chiusura stagna, anche queste dove posso mettere le chiavi, dove posso mettere il telefono specialmente. Foderata bene in modo che anche la chiudo e non ho problemi anche in barca a perdere la chiave. È molto stilosa, anche di design così. Io veramente ve la consiglio. Vi lascio il mio link in descrizione qua sotto, dove la potete comandare. Sono contentissimo di questa giacca, veramente è pazzesca, anche per l'inverno così mi protegge bene. Sono super soddisfatto, prossimamente vi presenterò il mio gilet, che anche questo lo uso magari in un periodo un po' più stivo. Adesso sono questa giacca qua, perfetta, in condizione meteo, ideale. Grazie mille, a presto!